Ehi, quanti sono arrivati, eh? Quanti, 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 quanti? Avete voglia di festeggiare e di divertirvi? Questo si sente! Ricordate che questa è una delle piazze più pacifiche del mondo! Evviva Napoli! 5, 4, 3, 2, 1, meravigli! Bravisa, buona piazza del Plaviscino! Avvori! Avvori piazza del Plaviscino! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il momento peggiore e il momento migliore del 2018? Ma il momento migliore è l'energia della città, il momento peggiore è quando ci volevano far crollare ma noi non finiamo mai perché l'energia di questa città è comunque, la si può pensare, sempre superiore alle negatività. Quindi è stato un anno tosto, però lo finiamo nel migliore dei modi e sono convinto che il 2019 per la città sarà strepitoso. Ma sicuramente tanta serenità è che finalmente arrivi in un giorno buono per questa terra, una terra che mi ha regalato tanto e che questa sera mi ospita per la prima volta in una delle piazze più belle del mondo, cioè piazza del Plaviscito. Sono molto emozionato perché mi mancava ancora nelle esperienze che mi ha regalato la musica e che mi ha regalato il rap e per me servirmi questa sera in questo posto che per me è il teatro dell'arte napoletana è davvero una grande soddisfazione. Speriamo che sia l'anno buono su molteplici punti di vista. Il sud ha praticamente tante cose belle da far vedere al resto d'Italia. A volte magari i posti del nord sono più emancipati per una questione di marketing pubblicitaria, mentre noi qua abbiamo dei tesori che dovremmo emancipare ancora di più per far ripartire la nostra nazione da quello che abbiamo, che ce l'ha donato la natura. Napoli è bellezza, gli auguro sempre di più, ancora di più le bellezze che stanno venendo fuori. Finalmente viene fuori il bello, il bello della nostra città, la città è viva, grazie a chi ha fatto succedere tutto quanto. Grazie a tutti, finalmente la nostra città oggi ride. Gli auguro tanti, tanti, tanti sorrisi perché di cose brutte ne abbiamo passate. Finalmente la città è viva, la città sorride, gli auguro veramente di sorridere sempre. Tanta felicità e meno pregiudizio sulla nostra città. In Napoli ci sono tante cose belle, la cosa bella che ci sta è l'arte, non solo la pizza e mandoline, le solite cose, ma l'arte prevale. C'è tanta musica, c'è tanta energia, c'è il sole, noi siamo la terra del sole, c'è il sorriso. I napoletani sono sempre con il sorriso, sono felici e quindi mi auguro che nel 2019 ci sia ancora più sole, più sorriso e più felicità per tutti. Un auspicio del 2019, uno in particolare? Ma soprattutto che questa città possa consolidare questa sua spinta emotiva e culturale di energia che è fortissima ed è apprezzata in tutto il mondo e che possa ovviamente soprattutto migliorare la qualità della vita quotidiana e i servizi. Ci lavoriamo ogni giorno ma il vento che tira in città è un vento molto positivo che soprattutto è nettamente superiore alla depressione che prevale in altre città del nostro paese. Cominciano dai trasporti per tutta la notte dopo quello dell'ultimo mese. È un bel segnale, è un bel segnale, il trasporto può essere uno di quei punti nodali su cui si misurerà la crescita della città. Cominciano dai trasporti per tutta la notte dopo quello dell'ultimo mese. Cominciano dai trasporti per tutta la notte dopo quello dell'ultimo mese.